Ciao ragazzi, oggi sono con un nuovo video, però questa volta è un video in collaborazione con un'azienda che è la Turatidrofilo e produce i Cotton Plus. Mi è arrivato il pacchettino e ho già provato i loro prodotti e ora vi mostro che cosa mi è arrivato. Allora, innanzitutto mi sono arrivati degli opuscoli con spiegato come si utilizzano e cosa hanno all'interno. Vi sto parlando appunto di dischetti struccanti con all'interno un cuore di latte detergente. Mi hanno mandato questi in formato grande, che va benissimo per il viso, e quelli in formato più piccolo per gli occhi, in due tipologie. Una è quella con l'estratto d'argan e vitamina E, che è quello che è utile per struccare più intensamente gli occhi, perché ha un trucco più carico. E poi ci sono questi qui, che sono in formato mini, aloe, carota e vitamina E, che sono più delicati. E mi hanno mandato quattro confezioni di entrambi i prodotti. Allora, intanto vi posso dire che sono al 100% naturali, ipoleogenici e clinicamente testati. Vanno bene per tutti i tipi di pelle, quindi sono perfetti per tutti, senza conservanti alcol o parabeni, quindi sono veramente super naturali. E il consiglio di uso è, praticamente, adesso vi faccio vedere da questi aperti, strappare il dischetto, che come vedete sono attaccati così, strappate il dischettino. Poi, come vedete, sono anche colorati, da un lato hanno le righe, dall'altro non hanno niente, sono lisci. Quindi, li inumidite leggermente con l'acqua, l'acqua va ad attivare il latte detergente all'interno e poi ci si può struccare. Quindi, appena appena bagnati o inumiditi con una mano, senza bagnarli troppo, e non vanno strizzati, perché altrimenti il latte detergente se ne va. Dunque, io... Vedete, anche questi sono quelli più piccoli. Allora, a me sono piaciuti abbastanza, però, devo dire che fanno un po' fatica a rimuovere il mascara, o comunque il trucco waterproof. Mentre io sono abituata a utilizzare un bifasico, che in due secondi rimuovo tutto e faccio veramente presto. Secondo me, questi sono dischetti molto innovativi, perché hanno questo latte detergente all'interno, è anche molto idratante, e hanno comunque una profumazione molto buona. Mi piacciono entrambi, ma comunque anche l'aloe ha una profumazione molto delicata e forse mi piace quasi di più questa. Però, per struccare al meglio, vi consiglio questi qui. Comunque, devo dire che un trucco, per esempio, come oggi, che è abbastanza pesante, con l'eyeliner e il mascara waterproof in abbondanza, fa un po' fatica a rimuoverlo completamente. Io devo utilizzare più di un dischetto a occhio, quindi, diciamo, per rimuovere entrambi gli occhi almeno 4-5 pezzi, perché veramente il mascara rimane e bisogna fare più di una passata. Questo, secondo me, è utile per chi è in vacanza, in viaggio, per lavoro, è fuori in palestra, è utile per quando sia fuori, che non si ha voglia di portarsi tutti quanti i prodotti bifasico, detergente, acqua micellare, tonico, per dire. Tutti i prodotti che si utilizzano solitamente e non si ha voglia di portarseli in viaggio. Questo qui, invece, è compatto, ha due prodotti in uno, quindi dischetto più latte detergente, e basta utilizzare questo per struccarsi. Però, per fare uno struccaggio quotidiano a fondo e rimuovere veramente bene il mascara e il trucco, pesante, secondo me, sono meglio i prodotti che si utilizzano di solito, il bifasico e quant'altro, che rimuovono meglio il trucco. Però, mi sono piaciuti, devo dire che è un'ottima soluzione. E, niente, io li continuerò ad utilizzare. Hanno un profumo buonissimo, anche questi qui all'aloe. L'argano ha un profumo diverso, è molto buono anche questo, però l'aloe è veramente buonissimo. E, niente, ragazzi, questi sono i prodotti che mi sono arrivati. Vi consiglio di provarli, se avete modo di reperirli, oppure andate nel loro sito, che vi lascio il link qua sotto. Perché sono prodotti che comunque vanno provati, secondo me è una cosa nuova, che non si trova in commercio solitamente. È una novità e poi, oltretutto, sono anche italiani, sono fatti qui in Italia. Ah, vi leggo comunque dietro che cosa hanno scritto. Se attiva con acqua, utilizzare acqua potabile, non necessita di altri prodotti struccanti. Quindi, non dovete utilizzare altri prodotti dopo essere struccati con questi, non importa. Asciutto non secca dopo l'apertura. Quindi, un'altra cosa ottima è che non si seccano se sono aperti. Rimangono comunque con le loro proprietà. Sono pratici, facili da usare, si attiva quando vuoi con l'aggiunta di poche gocce d'acqua, quindi ricordatevi poche. Il risciacquo non è necessario, è ideale da portare con savunque anche in aereo. Naturale, ipoallergenico, clinicamente testato, non contiene alcuni conservanti, ne para bene. Nickel tested, non irrita gli occhi. Adatto a tutti i tipi di pelle, perfetto per la rimozione del trucco e per correggere eventuali sbavature. Infatti, sono delicati, non mi bruciano gli occhi, quindi il latte all'interno è molto delicato. E' un'altra cosa che mi è piaciuta, appunto, perché non mi vanno a irritare la pelle e nemmeno bruciare gli occhi. Niente, ragazze, secondo me comunque sono prodotti validi, ma per fare uno struccaggio veramente completo, quando si è a casa e si ha la possibilità di usare più prodotti sicuramente è meglio. Però, per andare in viaggio o comunque quando si è fuori casa sono perfetti e ve li posso consigliare. E niente, vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile. Vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!